breve breve lo voglio breve lo voglio breve perché voglio farvi compagnia questa sera ovviamente alle persone che sono contente chi non è contento manco sapere ma quindi manco me ne preoccupo anche quando vedo il pallice in giù non me ne frega proprio niente e anche perché una persona se è contraria si esprime ma che mi importa ma non voglio manco piacere a tutti ok anzi ho piacere a chiunque no non voglio neanche fare la guerra ma infatti mi dispiace perché io sono ironica magari dico il mio pensiero ma come lo direi comunque di fronte a chiunque senza non con spirito di fungicamente ma proprio perché mi piace il dibattito mi piace ascoltare le persone che dicono la propria io preferisco i ferri dritti chi preferisce i ferri circolari tu sì circolari c'è chi dice che quei ferri dritti provoca dolore e si affatica di più io invece con i ferri circolari mi uccido quando devo lavorarci a lungo sì perché se si è abituati a lavorare tante 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 ore filate è ovvio che poi se non ti vuoi del male cerchi di assumere le posizioni più più comode più corrette che ti permettono di lavorare a lungo ma di continuare anche il giorno dopo non ti deve essere poi stesa e su questo ci ho lavorato molto quindi il ferro dritto non lo tengo non lo schiaccio è quello che cerco anche di insegnare a fare non va premuto contro il fianco contro il seno bisogna tanto sta su da solo è proprio non c'è bisogno di forzare bisogna lavorare sulla muscolatura poi insegno a fare i massaggini al cuoio capelluto come scollarlo per bene per rilassarsi quello è mestiere è messi ho studiato anche è vero ho iniziato presto a lavorare ma non mi sono mai fermata di approfondire quello argomenti vari diciamo c'è la via e il mio fare sono molto toscana sono ligure confino poi manco ligure da parte di là sono proprio levantina levantina toscanina e siamo un po' sfitti insieme dico quello che penso non perché voglio ferire perché voglio urtare la sensibilità altrui lo dico in modo di sfotto ovviamente ma mi auguro che sia anche moderato e si comprenda l'ironia io stimo il lavoro di tutti per carità quando quando è buona quando non mi piace non mi non mi esprimo cioè se ho un dubbio voglio capire perché quella cosa a me arriva in un certo modo poi lascio perdere nel senso non mi interessa di dire oh come è brutta quella cosa a meno che una persona non mi chieda un'opinione e la motivo certo non per demolire la persona perché magari gli interessa un'opinione ecco per carità anzi stimolo cerco proprio di stigare al fare ma chiunque perché quando ci dedichiamo alla creatività la manualità quanti pensieracci riusciamo veramente a non a non lasciare troppo presenti no riusciamo a superare dei pensieri dei dolori o perlomeno li supportiamo i dispiaceri se riusciamo ancora a trovare energie per fare qualcosa e anche per quello che a me piace comunicare soprattutto averlo fatto coi bambini e quindi se qualcuno si è urtato di come io mi sono manifestata ma spiace lo dicesse però perché cercherò di stare no non posso stare più attenta di così dico quello che penso insomma ma ma non è pertinente no è per carità di dio anzi mi dà proprio fastidio quando vedo l'aggressività ecco l'aggressività quando si incontra ovunque anche in rete che si dà addosso a chi è un po più fragile a chi è insicuro o chi ci si senta sto cavolo e cavolo bello e mamma mia poi cavolo sapete che è l'ortaggio che io amo di più quando ho visto anni e anni fa che è arrivata la moda di fare gli aiuoli con i cavoli decorativi che poi comunque erano cavoli commestibili e io ero ancora in lombardia ma quanto mi è piaciuta ma io quando andavo al mercato contadino a rientra che andavo facevo di quelle spese come se fossimo in 800 in casa e quella è andata bene perché quando sono rimasta bloccata per la neve nell'anno nel bosco quando uno dico quando nel bosco uno pensa povera c'è isolata ma no era un comprensorio di case sparse le nostre erano praticamente le ultime nella traversina della strada che faceva il periplo dei campi di annibale un territorio che fa parte del parco dei castelli romani eravamo praticamente le ultime dopo di noi c'era una casa non ancora abitata poi c'era un mio amico molto molto oltre e io avevo dei vicini sotto di noi c'erano i proprietari e poi c'era una villetta poco prima di casa nostra poi più avanti un'altra semi traversina due casette poi il maneggio con la pizzeria da noi dava l'entrata di servizio infatti quando ordinavamo le pizze andavamo non ce le passavano dalla rete però 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 rimanemmo bloccati tutti ecco e camilla insomma poveraccia dovete chiedere asilo politico e meno male che aveva una scorta di ortaggi io questa cosa di fare le scorte per l'inverno ce l'ho sempre avuta ah sì 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 non si sa mai può succedere qualsiasi cosa poi noi appunto non eravamo a un passo dai dal primo negozio utile stavamo un chilometro e sei quasi due diciamo anche nel verso il bosco con delle grandi difficoltà tra l'altro con il ghiaccio e la neve e soprattutto quell'anno mamma lì il bosco si decimò proprio quanti schianti di alberi e io per fortuna avevo fatto pochi giorni prima la mia spesona invernale cioè invernale nel senso no per tre mesi però con prodotti di lunga durata sia vegetali che non e quindi avevo delle scorte avevo un cestino con cinque chili mi pare forse oltre di me le annurche che poi mi aveva insegnato il contadino come conservarle a parte le patate a parte di verze voi non avete idea quante verze perché poi le adoro sono bellissime le verze lisce avevo topinamburo avevo di tutto e poi all'epoca ancora facevo il pane quindi tutte le mie belle farine i legumi manco a dirlo ma legumi sia in scatola che secchi e in barattoli non mi faccio anzi ne tengo sempre molti perché dovesse mancare l'acqua dovesse mancare qualsiasi cosa quei cibi dove se manca il gas e manca l'acqua ecco non abbiamo da dover sporcare quando uno pratica una barca e ci sta a lungo io poi ho letto tutti questi bei romanzi ma non sono romanzi no i diari di muotassie quindi ti rendi parli poi sono una che sa passione sono un marinaio dentro contadino sono un marinaio contadino e tessitrice magliaio faccio un po' artigiano e quindi ti immedesimi e quindi pensi alla barca deve rimanere leggera bisogna avere dei cibi che non si guastino velocemente devi nutrirti senza avere impicci quando c'è il mare ho sempre amato i romanzi d'avventura io ero piccolissima che leggevo jules verne ma sì e mi piace un po l'avventura la fantascienza per bambini per bambini per ragazzi la leggevo le elementari macinavo libri proprio volevo stare fuori con la mia testa voglio andare a viaggiare volevo fare quelle cose ah che belli libri d'avventura e quindi le mie scorte comprendevano sì perché tu da un barattolo di fagioli ti bevi anche l'acqua di governo che non è cacca se ci stanno i fagioli se mangi fagioli mangi anche il resto e non sporchi niente perché se ti manca l'acqua devi evitare di sprecarne quindi quella volta quell'anno dove in due mesi camilla venne a casa due volte poveraccia e io avevo appunto fatto queste belle scorte e cercavo di non dover lavare per il bagno l'avevo già raccontato mi sa riempivo un secchione che avevo con la neve non potevo neanche scendere perché il vento aveva accumulato talmente tanta tanta neve sulla scala io stavo in una mansarda con un bellissimo ampissimo patio bello con uno spioventone bellissimo e poi avevamo tutta una un tetto calpestabile oltre il nostro patio intorno a l io ci andavo spesso devo dire perché andavo verso il bosco andavo a raccogliere le cose saltavo la mia merla andavo a recuperare i miei gatti e era un po' calpestabile ma un muro e la scala era un muro di ghiaccio fatto a gobba quindi sono dovuta per due volte ho chiesi di poter scendere di sotto e mi fecero passare dalle camere dei ragazzi che avevano una porta sul mio stesso patio e passate verso casa perché come uscivo io se no manco quei ramponi e quindi avere poche cose da sporcare poche cose da lavare e consumare il meno possibile il gas se noi avevamo la bombola ancora non c'era non credo che ancora non sia arrivato il gas fino là quindi per fortuna sì avevo la bombola e cercavo di adoperare il meno possibile cucinavo lì non c'era riscaldamento perché tutta la casa si scaldava tramite un termocamino quindi di sotto un fuocherello solo potevano fare io avevo la mia stufa legna in cantina perché non c'era canna fumaria al nostro livello e non c'era manco lo spazio sinceramente non avrei potuto mettere anche la stufa legna la mia bella termo era una termocucina che ho regalato a una persona ingrata e vabbè e che non se la meritava insomma quindi mi sono organizzata mi sono mi sono centellinata tutti i miei alimenti ho cercato di cucinare poco appunto riempivo per per lavarmi e per il bagno perché ragazzi in caso di bisogno è il vc quello che proprio c'è viene a manca quando manca l'acqua in tante persone più figuriamoci anche da sole quindi riempievo questo secchione con la neve quindi il giorno dopo in casa era sciolta anche senza riscaldamento sotto ai 10 gradi non mi è mai scesa la temperatura per fortuna perché avevo un portellone enorme come porta d'uscita le finestre avevano i doppi vetri e è bella perché era fatta proprio bene avevo un bel soffitto a travi quindi sono stata praticamente bene sì ho campato vestita proprio mi sono cambiata giusto il minimo indispensabile no ecco ed è stato divertente perché non mi è mancato niente non mi mancava niente poi sapete che senza la corrente i batteri e le cellulari ciaone quindi ero vabbè potevo chiedere di sotto ma anche sotto c'erano pochi niente cercavano di stare presso la casa dei nonni di un nonno insomma che stava più in paese e facciamo bene dove andare a lavorare dove non fare scavallare gli alberi una volta sono andata in paese con il carrellino ho dovuto scavallare alberi e alberi da farsi del gran male da beccarsi anche qualche albero in testa insomma non me la sono andata a rischiare più di tanto però mi sono anche divertita devo dire che ero abbastanza attrezzata un po più ginica dieci anni fa non ricordo quando si fu quella nevicata lì non me la ricordo era dopo il 2009 perché stavo già lì però tremenda tremenda lo schianto degli alberi io parlo se lo ripeterò se lo schianto degli alberi ogni pochi secondi era una fitta al cuore e e quindi le scorte le scorte sì le scorte giuste l'inverno sempre delle scorte che poi man mano uno reintegra perché più di mantini freschi e meglio è i cibi conservati e quindi ho sempre tenuto delle cose istantanee se volevo una cosa calda mi facevo o il semolino o la polenta non mi stavo a fare gli spaghetti la pasta a lunga cottura 15 minuti per cuocere una pasta ti sprechi il gas hai bisogno di acqua potabile e sprechi tutto un insieme di cose e quindi polenta istantanea e il semolino poi mi tenevo sempre delle friselle come scorta invernale che poi quando si arrivava verso la fine dell'inverno iniziavo a consumarle perché ovviamente però tutte quelle cose ecco fare delle scorte è una cosa intelligente sia per chi ha una barca sia per chi ha una baita sia per chi vive in piccoli centri oppure un po' decentrati e poi non si sa mai non si sa mai abbiamo visto no che c'è un chiodo improvviso in casa si si può andare per la spesa tutti terrorizzate nessuno che andava va bene ecco bisogna imparare un po' ad avere le scorte furbe nelle varie stagioni e adesso non mi ricordo perché sono arrivata a parlare di questa cosa qua poi quando mi riascolto dico ma guarda un po' dove mi sono andata a perdere con l'improvviso e comunque ecco le scorte anche di filati bisogna avere smettetela con questa cosa dello stash pensate ai momenti grammi guardate al vostro stash che a me viene semplicemente il dash con amore con considerazione pensate che possono arrivare tempi duri se sa mai nella vita teneteveli lì ecco adesso ho le scorte no avete visto le scorte e adesso muovo il carrellino per i passatelli ecco su amazon non lo so se ce l'hanno ma dal ferramenta l'ho trovata nel negozio di casalinghi ecco vedete quella è una delle rocche che la mia amica mi ha preso al mercato poco più da invece ho una rocca l'ane cardate col gomito l'ho già fatto perché devo iniziare voglio iniziare a realizzare un poncio per una nipote quello che non sono riuscita a farvi vedere è terminato che ho fatto per la bimbetta lo faccio uguale cambia solo il colore di fondo devo decidere se lo metto doppio come ho fatto per la bimba lo lascio singolo non lo so poi le cose buone le cose buone che si possono conservare abbastanza a lungo se sono fresche soprattutto di paese durano anche un mese ottime sappiatelo sono le uova io oggi ho portato delle fettine di torta salata ai miei vicini che non mi vedevano da due giorni e sono andata a prendere un caffè con loro mi sono intrattenuta un'oretta a chiacchierare che mi aspettano la domenica ci temo e sono tornata a casa con le uovette adesso io le ho messo in questo cartone che mi porta Camilla che mi preferisce nei cartoni non nella plastica perché quando le ordino le uova poi le deve trasportare e le ricicla dai con i colleghi ma queste sei uovette che ho infilato qua me le sono infilate in tasca quando sono andata dai miei vicini delle galline uovette da 30 grammi eh delle gallinelle che stanno belle belle felici e anche le uova servono perché anche le uova con le uova possiamo cavarcela con la neve un po' di neve poco fuoco una svolentata e vai poi chissà perché sono arrivata a parlare di quello non lo so ah nel ciotolo qua c'ho un brodo buono di ciccia che adesso mi vedo e mi piace io non lo metto nei piatti i fondi mi piacciono le ciotole io amo le ciotole le ciotole di qualsiasi genere non di plastica però ce l'ho però ci faccio gli impasti non grassi perché poi chi le lava le plastiche con il grasso e in questa bella ciotola c'ho il mio brodo bello speziatino che ho cotto sulla mia stufona legna che me lo so dimenticato sono andata dai vicini adesso ritrovo il ristretto poi il dado oggi mi sono poco dimenticata che era da moca era lì adesso risposto il carrellino per i passatelli e arriviamo qua arriviamo qua pesto e mortà pesto e mortà è il primo libro che mi regalai di cucina spezzina più che ligure sì ci sono anche delle ricette di genova beh è un libro fatto con la carta tipo pane è proprio usato strausato ero giovincio 30 anni di più è uno dei pochi che ho salvato poi ecco due cadeaux che mi feci durante la prima volta la seconda la seconda volta in residenza artistica in atelier in apricale a Baiardo durante la gita con la mia amica collega di avventura in quel momento Rita Heineken mi pare che si chiama non mi ricordo mai il suo cognome perché è cognome russo terribile e quante risate e mi regalai un negozio una bottega molto carina che si trova nella piazza di Baiardo Baiardo allora apricale è un paese che si trova alle spalle di Ventimiglia direzione Alpi Marittime bisogna prendere la strada per Dolceacqua che è un borgo medievale bellissimo con un ponte romano bellissimo dove fanno un mercato mensile del biologico dove veramente bisognerebbe farsi di quelle scorte di bontà anche già cucinata a dei prezzi incredibili ma con una varietà ecco il ragazzo che insieme a Roberta sono i due soci di questa sorta di no di questa sorta è una residenza artistica il ragazzo è un grafico e si occupa insieme a degli amici spero tuttora di agricoltura naturale e arrivo poi a questo perché me lo stavo dimenticando parlate di agricoltura naturale perché poi vi lascio invece che di cibi vi lascio due i link per andare a vedervi due e ascoltare due video dove potrete vedere come si tingono le matassi come si tingono le fibre con essenze naturali ma avete un sottofondo musicale io prima di tutto sono incantata io poi quando ho sentito il flauto e il pianoforte il flauto attraverso è stato uno dei miei strumenti musicali mia figlia ha suonato il pianoforte io avevo già fatto una scorta di partiti per pianoforte e flauto e invece mai accadde questa cosa purtroppo che dolore a me commuove quando avete suonato uno strumento musicale qualsiasi e siete entrati in risonanza con questo quando la musica che avete prodotto ha vibrato con voi ma dentro di voi come riascoltate lo strumento anche suonato da altri parte proprio il corazón belli 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 bello poi perché non sono stati esclusi i rumori del lavoro di sottofondo della persona vedete questa persona che raccoglie le materie tintore in natura è stato intelligente anche interessante a vedere come ha steso le matasse e quello può tornare utile a chiunque perché abbiamo molti di noi avranno avuto bisogno di disfare delle lane lavorate quindi dei capi e recuperare la lana e poi bisogna togliere i segni del lavoro spesso a secondo della fibra di come è stata lavorata è difficile anche dopo il lavaggio che si tolga bene il segno e guardate non vi dico in quale dei due guardateli tutti e due a parte che è piacevole sia ascoltare secondo me se piace il genere musicale ascoltare sottofondo e guardare la persona perché oltre a vedere come raccoglie le materie tintorie è interessante anche vedere come lavora le fibre perché fila anche questa persona quindi vi auguro un buon ascolto una bella visione e poi vi consiglio di cercare la storia di Libereso Guglielmi ecco perché ci sono questi tre libri perché il libro di Libereso è il libro degli alunni le ricette degli studenti della provincia di Imperia credo non so se è stato un progetto non me lo ricordo più un po' che non lo risfoglio un progetto che ha occupato sia e coinvolto i ragazzi delle elementari che delle medie e delle superiori non me lo ricordo ma le ricette sono veramente carine sono le ricette di casa che ognuno ha portato per creare questo libro e io amo molto la ricetta del territorio mi piace conoscere i luoghi attraverso gli alimenti che vengono preparati attraverso le famiglie che conosco le persone cercare proprio i cibi tipici del luogo tutti dalle farine ai legumi a quel tipo di ortaggio come viene cucinato qua mi hanno insegnato ad utilizzare ad esempio il finocchietto che non fa parte molto della cucina a Ligure del finocchietto il finocchietto selvatico e l'avevo assaggiato ai castelli e non mi piacque molto mentre qui in questa zona è molto speziato sembra quasi piccante e ho imparato un po' di ricette e la mia amica Alejandra mi ha ospitato a pranzo poco tempo fa e mi ha cucinato un coregone che è un pesce di lago con il finocchietto e che meraviglia a parte che mi ha fatto un pranzetto e che carina lei la figlia due persone deliziose quanto il pesciolone che mi sono spazzolata e e sono legata ai miei territori quindi tanto alla Toscana agli aromi ai profumi della Toscana alla ciccia al pesce non nego non mi sento non sono un'ipocrita sono stata vegetariana convinta per tre anni ma non ero né in forze non sono stata bene ho avuto un accumulo di accidenti e un progresso di patologie che mi ha dato veramente dei problemi nel tempo ed ero più giovane adesso no e quindi ben venga quindi non rinnego le mie radici neanche alimentari mia nonna con mio nonno ripeto si andava per erbi come si dice in Liguria perché era bello perché mio nonno è sempre stato un grande camminatore mia nonna tutte e due le mie nonne materna e paterna grandi esperte di erbe spontanee ma anche perché è una questione di economie domestiche mia nonna pescava il caciucco perché con qualche patella qualche lumachina un po' di cozze e qualche riccio il pescetti del nonno si faceva qualcosa di buono e che non veniva a costare e mi piace la cucina semplice di casa la cucina che si fa con quello che si ha la cucina stagionale e il libro non conoscevo Liberese o Cugliermi non lo conoscevo forse ne avevo no conoscevo poco ricordavo qualcosa perché gli era stato dedicato qualche articolo su Gardenia anni prima quindi è stato un flash quando ho visto e poi quando mi hanno ricordato che abitava a Sanremo e poi ho scoperto insomma tutta questa storia che all'epoca quando resti non gli è di peso per sapere è così per tutto e quindi questo negozio in questo spazio bellissimo di Baiardo che è appunto un paese che si trova dopo Dolciacqua dopo Apricale direzione Alpi Marittime Liguria di Ponente è un paesino delizioso con un paesaggio torno torno mozzafiato alle spalle le Alpi Marittime delle luci incredibili profumi erbe aromatiche che non avete idea quante quante nello stesso pezzamento di terreno la menta che cambia sapore di metro in metro una cosa commovente e in questo spazio vendevano lane ma non c'era la persona addetta e che era proprio il giro e lì c'era un responsabile insomma un supplente diciamo acquistai della lavanda meravigliosa che regalai a mia figlia dell'essenza di lavanda e mi regalai varie cose alle bancarelle in piazza in orto frutta e il brusso come già raccontai e mi regalai questi due libri che mi incantò di e ce ne ho due di di Bereso Guglielmi cosa mi incantò di questo personaggio la sua vita la sua dedizione al vero alla raccolta di piante alla costruzione di questo suo meraviglioso giardino in mezzo ai palazzi di Sanremo e poi la meraviglia di raccontare le ricette di disegnarsi il suo libro sono tutti disegni di Bereso Guglielmi quelli che troviamo in copertina e all'interno e lo hanno chiamato per tutta la sua vita è morto da pochissimo le mie ricette è morto veramente da poco io per lui avevo montato su una sciarpa la mia intenzione era di tornare ad Apricale di andare a trovare di Bereso Guglielmo di farmi presentare perché gli stavo avevo appena iniziato una scalena in alpaca azzurra mi ispirava all'azzurro e invece io ero arrivata già abbastanza avanti non tantissimo e che è andato là dove stanno bene le persone e questi disegni sono di Bereso il Bereso è stato considerato l'hanno sempre chiamato il giardiniere dei Calvino ma sarebbe dei fratello di Italo Calvino ma dei Calvino dove in Sanremo avevano avuto delle proprietà è una persona splendida potete trovare molto c'è anche un'associazione che è una fondazione un'associazione dedicata a Bereso Guglielmo su Facebook e cercatela che potrete trovare vari documenti cercate tutto quello che potete se vi interessano queste belle persone su internet ormai troviamo tanto queste sono ricette cucina vegetariana quindi troverete la farina che io non posso più usare tutte quelle cose che buone Liguri una cucina Ligure vegetariana che la cucina Ligure al di là del pescetto e del coniglio è molto molto vegetariana noi Liguri usiamo molto le erbe spontanee così come tutti gli ortaggi siamo molto è molto vegetariana ecco dei miei segni Pesto di noci di Apricale Perinaldo Perinaldo ho dedicato la mia prima opera che donai allo spazio creativo perché quello che ci veniva a chiesto era un piccolo contributo per le spese di soggiorno soprattutto quando faceva freddo per il pellet ma proprio piccolo e poi di lasciare in dono un'opera di farci vedere il lavoro ovviamente di vivere lo spazio creativo di vivere il paese e di lasciare in dono un'opera ispirata lì e la prima opera me la ispirò Perinaldo che era un paese che sembrava sospeso nel buio di fronte alla mia stanza si vedevano queste luci e io creai il bozzetto di un di un arazzo di una stola arazzo con tutte le le istruzioni per realizzarlo insomma è una scheda tecnica più che altro a Composi oltre al bozzetto all'opera in scala montata su un telaio a cornice da didattica e poi un cappello quello che poi feci a ecco già non mi ricordo più come si chiama mamma mia come sono vecchia ecco questo libro ve lo consiglio ma sapete anche perché perché mi ricorda quello che disegnava mia nonna a nove anni mi sparì da casa il quaderno dei componimenti mensili di mia nonna della sua terza elementare e dove lei scriveva col pennino quindi si vedono si leggono i suoi pensieri deliziosi poi parla della quotidianità quindi come facevano una volta raccontare della tua famiglia dove vivi le stagioni le feste e spiega la vita del quartiere dove poi io sono sono cresciuta dove sono nata e mia nonna disegnava tutto col pennino che poi coloravano i disegni con i pastelli a legno ma dovevate vedere poi ve ne parlerò di quel quaderno e mi dà un dolore che mi è stato portato via che non avete idea dove mia nonna disegnava gli ortaggi gli animali il cavallo disegnato a mia nonna a nove anni col pennino e poi il cavolfiore e poi la vite come nasce il raspo il grappolo i fiorellini dell'uva ma è una cosa di una delicatezza di una così particolareggiata quando poi ho visto i disegni appunto di Libereso mi è venuto a mente la nonna poi sono dei personaggi incredibili quindi è veramente bello questo libro sono belle le ricette magari qualche cosa non troverete perché sono ortaggi delle parti nostre magari avrete delle varianti di quegli ortaggi ma se c'è un libro che io veramente vi consiglio un libro di cucina è questo è questo proprio per sentire il profumo di qualcosa che magari noi non non rincontreremo se l'abbiamo incontrato ci farà piacere ricordarlo ora mi bevo il mio brodo che sarà freddo me lo risbato nella pignata che è ancora sul fuoco perché il brodo lo cuocio piano prima una bella sbollentata che prima faccio dare una bella sbollentata all'acqua con gli aromi e il sale poi ci butto la ciccia e poi lo lascio da una parte piano 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 infatti pensavo di trovare il dado un ristorito di carne e adesso comincio comincio il poncio a mia nipote chiara e sono contenta che posso farmi così a mia nipote che le piace che mi ha dato l'ok zia e vado così poi faccio sto maglione a mia nipote e mi farò aiutare da voi a belle a belli ma che ve credete che tutto costo zero no no mi dovete aiutare che se io non riesco ad andare avanti con quel pater qualcuno mi dovrà aiutare questa sera c'è stata una bella chiacchierata tra Antonio e Anna e poi ve ne parlerò ciao poi vedete ma chi è chi so ma sì che lo sapete meglio di me ma per chi non lo sa poi lo racconterò ciao ciao buonanotte ciao 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 ciao